Dimitri Russo del gruppo investigativo, oggi sono intervenuto come speaker, come relatore in questo bellissimo seminario di Stop Secret agli investigatori privati che si chiama Investigare Oggi, l'argomento del mio intervento è stato quello relativo alle bonifiche ambientali, l'argomento ha avuto un taglio commerciale, il modo migliore per presentare ai nostri clienti i servizi che riguardano l'attività che possiamo anche definire investigativa tecnologica per accertare se ci sono interferenze illecite nella vita privata, ha riguardato soprattutto il come, il quando e il perché bisogna svolgere questo tipo di attività, con quali modalità, con quali strumenti, ma soprattutto ha riguardato l'aspetto dell'opportunità commerciale di poter poi spiegare meglio al nostro cliente quali sono i servizi che un'agenzia investigativa moderna offre oggi.